Soldi falsi con centrale operativa nel Casertano. Arrestate dai carabinieri otto persone con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata la produzione e cessione nel territorio nazionale di banconote false. Inoltre scattata un'operazione parallela, i carabinieri di Capua insieme alla polizia francese e agli uomini di Europol hanno eseguito cinque mandati di arresto europeo emessi dal giudice del Tribunale di Nancy in Francia nei confronti di cittadini italiani. Eseguiti nove fermi anche in territorio francese nei confronti di altrettanti cittadini del luogo, 22 in tutto i provvedimenti restrittivi. L'operazione è il frutto della collaborazione Italia-Francia che ha dato vita alla prima squadra investigativa comune diretta dalla procura di Santa Maria Capuavetere e dal giudice istruttore penale di Nancy. In cinque anni di lavoro gli investigatori hanno scoperto un'associazione criminale che si occupava dello smercio di banconote contraffatte. In modo, scrive il procuratore nelle carte dell'inchiesta particolarmente spregiudicato. Banconote del valore del taglio di 50, 100 e 500 euro vengono smerciate dalla Campania verso altre località estere.